Il primo passaggio nel nostro lavoro è costituito dal cosiddetto mocap, quindi con dei normali fogli di formato A4. Noi ne taglieremo tre con una misura, una dimensione di 12 cm x 24, quindi 120 x 240. Ne taglieremo tre, come dicevo, che rappresentano nel loro insieme le 12 pagine del nostro booklet. Il booklet, come è noto, è un piccolo opuscolo, in questo caso ne simuliamo uno di solo 12 pagine, che troviamo, possiamo trovare all'interno di un supporto digitale, insomma, accanto, insieme ad un supporto digitale come un CD e un DVD. Vediamo come disporre i nostri fogli. Abbiamo il primo foglio, il primo foglio è costituito, diciamo, dalla copertina, quindi la pagina 1 a destra e la pagina 12 a sinistra rappresentano anche la prima e l'ultima pagina della copertina. Questa sarà, in seguito, chiameremo questa parte, da questa parte, la bianca, mentre invece questa sarà la sua volta, quando lo andremo a stampare. Quindi, dietro la pagina 12, naturalmente, abbiamo la pagina 11, così com'è dietro la pagina 1 abbiamo la pagina 2. Questo è il primo foglio. Il secondo foglio dovrà contenere necessariamente la pagina 3 a destra, accanto la pagina 10 a sinistra. Sull'altro lato, naturalmente, che sarà la sua volta, questa è la bianca, questa è la volta, abbiamo la pagina 4 dietro la pagina 3 e la pagina 9 dietro la pagina 10. Naturalmente, questa è la bianca perché riporta il numero più basso, mentre invece questa è la sua volta perché porta il numero seguente. Quindi, se questa porta la 3, il numero più basso, la pagina 4 riporta, sarebbe la volta. E questo, quindi, è il secondo foglio. In ultimo, abbiamo il terzo dei tre fogli, quindi le ultime 4 pagine, che sono la pagina 5 a destra, la pagina 8 a sinistra e all'interno, più semplicemente, la pagina 7 e la pagina 6. Ora, la pagina 5 e 8 e la bianca, la pagina 6 e 7, rappresentano la volta. Benissimo.